Il libro che presento è Biografia e filosofia, la scrittura della vita in Wilhelm Dilltey, che è uscito per Franco Angeli ormai qualche anno fa, nel 2005, e è stato un contributo che ho voluto dare alla storiografia filosofica e in particolare al problema della storiografia filosofica in veste biografica. Studi di questo tipo, studi specialistici nel settore, sono soprattutto stati dedicati in ambito puramente storiografico, ma non in ambito di storiografia filosofica. Questo che cosa significa? Significa che il punto centrale del mio contributo non è tanto la scrittura biografica in quanto ricostruzione semplicemente della vita, ma il nodo filosofico che sta alla base del saggio che ho sviluppato è costituito dal rapporto vita-pensiero, cioè in che forma la vita personale, quindi la vita dell'individuo, influenza e determina poi la produzione intellettuale o artistica. Sottolineo intellettuale e artistica perché mentre di solito si è propensi a considerare fondamentale la vita personale e la vita individuale nella formazione della produzione più strettamente artistica, che sia poesia o che sia prosa o che sia narrativa o che sia anche arte vera e propria, arte scultura eccetera, si è meno propensi per tradizione a considerare invece fondamentale il contributo della vita individuale alla formazione del pensiero. Cioè una lunga tradizione che è poi la tradizione moderna considera la produzione intellettuale una produzione per così dire assettica rispetto alle vicende che caratterizzano la vita individuale. Ora, questo panorama e questa idea di fondo di una produzione del pensiero, appunto di una mente per così dire staccata dalla vita, ha avuto una grossa crisi a fine ottocento, quando a metà fine ottocento, quando una serie di contributi sia appunto strettamente storiografici, come dicevo prima, sia di storiografia filosofica, hanno messo in evidenza invece quanto il contributo individuale sia fondamentale anche per la determinazione della formazione del pensiero. Io mi sono occupata in particolare di Wilhelm Wiltay, che è un autore appunto di metà ottocento, il quale è stato il protagonista fondamentale di questo recupero della scrittura della vita, appunto in tedesco la Lebensgeschichte, scrittura della vita, come modello storiografico per comprendere i sistemi filosofici. La prima, brevemente appunto, Diltay è un filosofo noto soprattutto nella tradizione filosofica per le teorie ermeneutiche. Questa è una tesi che vale fino a un certo punto e la biografia, uno studio sulla biografia, dimostra appunto come sia limitata questa prospettiva. Infatti, la teoria, l'idea appunto che Diltay sia soprattutto un filosofo dell'ermeneutica si scontra con il fatto invece che la sua produzione sia soprattutto dedicata alla ricostruzione della vita individuale e in particolare al contributo che la psicologia, in questo senso, può dare alla filosofia stessa. Per quanto riguarda la produzione di tipo biografico, citerò semplicemente due delle opere fondamentali di Diltay, che però sono veramente fondamentali, nel senso che non sono, come è stato per lo più sostenuto, due opere strettamente storiografiche, ma sono due contributi alla cosiddetta Geistesgeschichte, cioè alla storia dello spirito, quella storia che voleva appunto quel modello, che voleva unire la vita dell'individuo alla vita della cultura più in generale. Quindi la vita individuale ricostruita insieme alla storia politica, alla storia del pensiero, alla storia dell'arte, a tutti quegli aspetti che di solito invece vengono chiamati Filosofia della Cultura. La prima biografia importantissima di Diltay è La vita di Schleiermacher, Leiben Schleiermacher, che è uscito nel 1870 e il secondo contributo che ha avuto invece un grande successo, mentre il primo appunto, La vita di Schleiermacher, non è stato particolarmente, non ha avuto particolarmente successo in Italia, infatti in realtà mentre in Germania è stato fondamentale per gli studi schleiermacheriani, perché Schleiermacher era un teologo evangelico e quindi gli studi diltayani hanno segnato il recupero della figura di Schleiermacher per la teologia evangelica. In Italia invece ha avuto grande successo la Jugendgeschichte Egel, cioè la storia del giovane Egel, che è stata tradotta invece già negli anni 90 e che appunto ha avuto un grande successo, ma è in realtà la seconda biografia diltayana quando Diltay aveva già sviluppato la propria teoria ermeneutica. Per andare nello specifico, perché ho scelto Diltay per mettere in luce l'importanza del nodo vita pensiero, perché Diltay è il primo autore che struttura in modo innovativo questo rapporto, non che ci fossero prima di Diltay dei contributi in questo senso, anzi uno dei motivi che mi ha spinto a pormi questa questione della storiografia individuale, della storiografia incentrata sulla vita individuale è una questione molto banale, cioè perché le biografie sono le opere più lette in realtà, cioè anche da un pubblico non prettamente interessato alla filosofia o non prettamente interessato a delle tematiche storiografiche di tipo generale, invece la biografia è una forma che sempre attira il pubblico, sempre attira il lettore, cioè le storie individuali attirano il lettore più delle storie, spesso più delle storie collettive. La prospettiva entro la quale appunto Diltay sviluppa la sua teoria è quindi un confronto con questi altri modelli di storiografia biografica, in particolare quello di Rudolf Feim e di Herman Grimm, che erano due autori che avevano proprio negli stessi anni elaborato una teoria biografica. Che cosa distingue in realtà la concezione diltayana da quella di Rudolf Feim e da quella di Herman Grimm? In primo luogo il fatto che Diltay spezza per così dire quel modello molto cristallizzato di biografia che è quello ancora rappresentato da Rudolf Feim, cioè un modello di biografia nel quale l'individuo viene caratterizzato. Questa prospettiva appunto in tedesco è proprio la characteristic, il caracterisieren, cioè il trovare, ricostruire la biografia come ritrovare il carattere principale che caratterizza appunto l'individualità e da questo trovare lo svolgimento necessario per così dire dell'intera vita dell'individuo. In questo modo questa è una teoria che detto così brevemente si rifà in gran parte a un modello romantico, cioè l'idea che ci sia un nucleo fondamentale dell'individuo che si sviluppa e dal quale germina per così dire l'intera vita successiva, per cui il contesto storico può ben poco in realtà influenzare ciò che è già scritto per così dire nel carattere individuale e questo Heim, Rudolf Feim lo rappresenta soprattutto nella biografia di Wilhelm von Humboldt che era infatti uno dei rappresentanti più importanti appunto del romanticismo e dell'età classica tedesca e la seconda teoria biografica che Diltai contesta è la teoria biografica di Hermann Grimm che aveva dedicato uno scritto a Goethe. Anche in questo caso Diltai contesta la possibilità che la biografia Goetheana venga considerata anche una fonte storiografica ed è in questa critica di Diltai a Grimm che si ritrova la base della teoria biografica diltayana, cioè in primo luogo appunto nella teoria di Heim Diltai dice no, non è possibile ricostruire una vita individuale senza prendere in considerazione anche il contesto storico. Attraverso la teoria di Hermann Grimm Diltai dice no, non è vero, la scrittura biografica non è una fonte per la ricostruzione della vita dell'individuo ma è essa stessa un'opera. In questo modo entra in gioco un secondo elemento determinante per la biografia diltayana che è l'autobiografia. Cioè una biografia è tanto più consapevole e è tanto più consapevole del contesto e tanto meglio coglie le vicende individuali e il contesto storico se è in un certo senso una forma di autobiografia. Questo è un passaggio molto importante perché nella teoria biografica diltayana biografia e autobiografia, quindi conoscenza di sé e conoscenza dell'altro diventano due termini correlati. Non c'è conoscenza dell'altro se non c'è prima di tutto conoscenza di se stessi e quindi approfondimento della propria esperienza vissuta. Esperienza vissuta è infatti il termine fondamentale che diltay utilizza ed è qui da questo termine appunto erlebnis, quindi non erfarung, cioè semplice esperienza, esperire del mondo, ma erlebnis come esperire il mondo attraverso se stessi che diltay ricostruisce la vita di Schleiermacher che come dicevo è l'opera fondamentale di diltay. Nella vita di Schleiermacher infatti diltay teorizza intanto in primo luogo appunto quello che si diceva prima cioè che una personalità si sviluppa per il proprio carattere personale ma non solo ma si sviluppa anche all'interno di un contesto ben determinato dal quale non si può prescindere. In secondo luogo, ed è questo uno dei fatti innovativi della teoria diltayana, in secondo luogo si sviluppa grazie alla consapevolezza forte che ha di se stessa. Schleiermacher era una personalità di questo tipo. Non bisogna dimenticare infatti che per ora, cioè mentre negli anni, mentre noi adesso quando parliamo di biografie possiamo parlare di biografie di qualsiasi individuo sostanzialmente, diltay parlava ancora delle biografie dei grandi uomini. Non siamo ancora in una prospettiva di storia collettiva come somma delle storie dei singoli individui ma siamo ancora all'idea che ci siano dei grandi individui che hanno fatto la storia e che questi grandi individui non sono solo politici o non sono solo personalità politiche, personalità pubbliche ma siano anche intellettuali. Come dicevo appunto Schleiermacher è la personalità che forse ha segnato di più l'epoca della quale diltay tratta e si tratta soprattutto si tratta dell'epoca di fine settecento primi ottocento cioè dell'illuminismo quindi dell'uscita anzi della trasformazione dell'illuminismo in romanticismo in Germania e poi della conquista napoleonica della Prussia. Schleiermacher riuscirà a... Schleiermacher durante la sua esistenza sarà non solo l'intellettuale del passaggio appunto da illuminismo a romanticismo ma è anche un patriota cioè un teologo evangelico che è anche patriota della Prussia. Quindi unisce nella sua personalità il contributo prettamente intellettuale alla vita vissuta cioè alla partecipazione alla vita politica. Per Diltay questo è un... quella di Schleiermacher è dunque una biografia esemplare perché fa vedere come l'intellettuale non è soltanto l'intellettuale dedito al pensiero e alla formazione del sistema ma è un intellettuale partecipe anche della vita politica. Al di là appunto della storia che ci viene narrata è che Diltay purtroppo non è riuscito a completare. Diltay ha trattato soltanto la giovinezza di Schleiermacher per poi curare una seconda edizione del volume che purtroppo appunto non è riuscito a concludere. Al di là appunto delle vicende personali di Schleiermacher quello che viene teorizzato quello che viene teorizzato in questa biografia è che ci sono certo fasi della vita che si possono sostanzialmente suddividere nella fase giovanile e nella fase matura e nella fase cosiddetta sistematica. Ma è che queste tre fasi hanno il loro fondamento in una struttura psichica particolare. Diltay si dedica infatti con grande attenzione agli studi di psicologia che in quegli anni avevano avuto in Germania uno sviluppo enorme e come è noto appunto in Germania si sviluppa la cosiddetta psicologia scientifica e che tentava appunto di dare una spiegazione di tipo naturalistico alla vita individuale. Appunto al di là di questa struttura psichica che sta alla base per così dire della vita di Schleiermacher quello che credo vada messo in luce sono alcune note appunto alcune conclusioni che si possono trarre dalla struttura della vita di Schleiermacher. Il primo elemento notevole appunto di questa biografia che è enorme tra l'altro non l'ho detto in precedenza ma si tratta di quasi mille pagine di biografia di mille pagine pubblicate alle quali si aggiungono altrettante pagine preparate per la seconda edizione. Il primo elemento che va sottolineato è che appunto Diltay scardina questa idea di un destino predeterminato dell'individuo ma nello stesso tempo vede nell'individualità un elemento ineffabile, lui lo chiama ineffabile, cioè nell'individualità c'è sicuramente il germe dello sviluppo successivo dell'individuo ma questo sviluppo è, dice Diltay, in costante wechselwirkung, cioè in azione reciproca con il contesto. Quindi un'azione reciproca con il contesto che da un lato forma l'individuo, dall'altro però il contesto stesso viene modificato dall'individuo, dalle grandi personalità in questo caso. Il secondo elemento è che sicuramente nella fase giovanile ci sono tutti gli elementi fondamentali della personalità ma che questi elementi in un pensatore prendono forma successivamente e prendono forma sistematica. E' questo un altro punto, un punto in realtà sul quale la storiografia diltayana è piuttosto, non ha trovato un accordo, ma l'elemento sistematico in Diltay rimane fondamentale, cioè una vita che sicuramente durante la giovinezza ha molti elementi e anche contraddittori in sé, trova poi nella fase più matura, un elemento sistematico come è accaduto nella vita di Schleyer-Macher. Schleyer-Macher ha scritto poi un sistema filosofico articolatissimo che è assolutamente paragonabile a quello di Hegel e, cosa strana, invece in Italia per esempio non è stato minimamente messo alla pari. Il terzo elemento è che questi elementi giovanili che sono presenti nella vita di Schleyer-Macher, ma non solo, io in questo caso parlerò solo di Schleyer-Macher, ma questi elementi si trovano anche nella vita del giovane Hegel, sono elementi di tipo mistico e comunque se non di tipo mistico di tipo religioso, cioè alla base dell'elemento sistematico che si sviluppa nell'età matura c'è una formazione, per così dire, un moto religioso che è quello che Diltai chiama un moto geniale. Cioè esiste non solo un genio artistico, secondo Diltai, che era quello già riconosciuto dai romantici, ma esiste un genio religioso, un genio mistico che ha alla sua base l'intuizione di Dio fondamentalmente, quindi però non una spiegazione in termini concettuali di Dio, ma un'intuizione divina, alla quale viene dato poi sviluppo nel successivo sistema. Su questo elemento sistematico ci sono state diverse critiche, come dicevo il primo che ha criticato Schleiermacher da questo punto di vista è stato Hegel, ma quello che appunto all'interno, che nel saggio che appunto ha sviluppato è interessante, è come al di là degli sviluppi sistematici che un filosofo ha e al di là delle filosofie più diverse, quella di Hegel era una filosofia della, non certo, una filosofia della religione che in realtà si trasforma in termini concettuali, in realtà anche alla base della filosofia hegeliana c'è questo genio religioso, c'è questa intuizione di una realtà preconcettuale, che è condizione anche della realtà concettuale. Ora, nel caso di Schleiermacher la cosa ha avuto sviluppi che noi adesso appunto non possiamo prendere in considerazione, ma diciamo che su questa base Diltai ha sviluppato un'intera teoria biografica, cioè una teoria che voleva prima andare a analizzare secondo quindi la propria esperienza, perché la qualsiasi esperienza quindi anche dell'individuo Diltai che si trova ad analizzare, a ricostruire la vita di Schleiermacher è un'esperienza del religioso in primo luogo, che è quindi soprattutto esperienza interiore, questo è il fatto, cioè una religione che è soprattutto religione dell'interiorità, quindi non è una religione dogmatica né una tradizione ortodossa, ma è una religione dell'interiorità che prescinde quindi da un contenuto diciamo testuale. La condizione per la ricostruzione della biografia è provare, è che il biografo stesso abbia un Erlebnis, cioè un'esperienza vissuta del mondo di questo tipo, cioè un'esperienza religiosa che gli permette di entrare in comunicazione e quindi di comprendere, in questo comprendere e interpretare che allora ha senso la teoria ermeneutica, alla quale accennavo prima, la teoria ermeneutica quindi prende forma dalla religiosità e non viceversa, cioè Diltai non è un ermeneuta che ha interesse per un teologo, è un filosofo che ha interesse per la religione e che poi diventa ermeneuta. Su questa base scriverà appunto le sue due biografie più importanti e aprirà appunto a una serie di riflessioni sulla possibilità della comprensione dell'altro che avrà uno sviluppo enorme per esempio nella fenomenologia, per esempio in Edith Stein e quindi nella parte della filosofia novecentesca che si ispirerà appunto alla teoria dell'Erlebnis. Grazie 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 Grazie